Questo sarà un video che mi procurerà un sacco di nemici, ma avendolo a suo tempo promesso adesso non posso fare a meno di proporre il video dove la domanda è è meglio il suono del disco in venile o del cd digitale? Beh, se chiedete a me che cosa io preferisca personalmente, io devo dire che preferisco di gran lunga il disco in venile per i miei ascolti personali a casa o metri di dischi in venile e una trentina di cd. Ma se la domanda è quale, secondo me, sia il medium che suona meglio dei due, beh, non posso fare a meno che lasciare da parte le emozioni e pensare a come sono fatti questi due oggetti. Due punti a capo. Questi due oggetti sono due contenitori che il genere umano, l'Homo sapiens, ha inventato in tempi diversi per immagazzinare musica. Non sono niente di magico, quindi sono veramente due cassetti dove due tecnologie diverse immagazzinano la musica per farcela poi risentire. Il più recente è il cd, qua vediamo come in realtà viene registrata, depositata la musica su questa superficie di alluminio. Vediamo che sono punti e linee, corrispondono ai famosi bit, corrispondono ai famosi 1 e 0, che è poi la natura del digitale nel quale tutti siamo immersi. Ormai anche i film, la televisione, le fotografie che vediamo sono digitali. Cioè in pratica dalla realtà analogica c'è un convertitore che converte questa realtà analogica, nel nostro caso il suono, lo converte in digitale, in numeri. E a questo punto sarà molto facile e semplice immagazzinarli, trasportarli, copiarli e poi ci sarà un nuovo convertitore che riporterà questi numeri all'evento originale, così come lo conosciamo, per fruirne sia esso musica o immagini. Questo processo, doppio processo di conversione, è proprio l'accusa che si fa al digitale perché, non senza ragione, questo doppio passaggio di conversione potrebbe far perdere qualche cosa. Cioè la realtà diventano numeri e poi ritornano realtà e i numeri non sempre ci piacciono. Smetto di parlare del CD anche perché se ne parla tantissimo e invece vi chiedo se sapete come viene fatto questo disco. Qui la musica è riprodotta in maniera analogica, cioè tramite dei solchi, che vedete in questo caso, nella quale scorrerà poi la puntina che traccerà, cioè seguirà questi solchi, che sono letteralmente scolpiti, che sono letteralmente scalpellati, incisi, cut dicono gli inglesi, tagliati, ma è meglio l'italiano incisi, in un medium, in questo caso il vinile, che trasporterà la musica dal momento dell'incisione fino a casa nostra. Ho parlato di incisione, di scultura e in effetti chi si occupa di fare il primo passaggio per arrivare poi al disco finale è, o meglio sono dei tecnici di altissimo livello e la cui importanza viene spesso sottovalutata. Chi è e cos'è che infatti crea questi solchi? Allora, se partiamo dal nastro originale, parlo di nastro perché se partissimo dal digitale non c'è più storia, la vittoria è subito di competenza del digitale, siamo nel dominio del digitale, continuiamo a farne copie identiche una all'altra e quindi perché passare ad analogico? Partiamo, abbiamo detto, da un nastro analogico, con un cavetto potremo attaccarlo al convertitore ed ottenere il nostro master digitale, ma dal nastro ad arrivare alla prima lacca non è così semplice. Quello che vedete alle mie spalle è il tornio con la punta di diamante, speriamo nuova, che incide letteralmente la prima matrice, la prima lacca, col suono proveniente dal nastro, che ovviamente deve essere amplificato perché come vedete questo tornio non è facile da muovere e quindi ci sarà un impianto di amplificazione abbastanza potente, tanto da muovere queste due grosse bobine che sono l'equivalente delle bobine che abbiamo nei nostri altiparlanti, perché invece in questo caso incideranno la prima lacca, come state vedendo, con un solco, producendo addirittura un truccelo, i cui residui andranno poi smaltiti, e che è composto da onde più o meno larghe e profonde a secondo del volume e più o meno frequenti a secondo della frequenza, quindi analogamente all'analogico 30 su e giù saranno i 30 Hz, 1000 su e giù saranno i 1000 Hz, 10.000 su e giù saranno i 10.000 Hz. Il lato destro sarà il canale destro che noi ascolteremo, il lato sinistro del solco sarà il canale sinistro che noi ascolteremo. Immaginate, come immagino io, che questo processo di scolpitura non sia esente da problemi. Parlavo in precedenza delle figure dei direttori di taglio e di incisione, che sono a metà tra l'artistico e il tecnico, devono avere profonde conoscenze tecniche e anche artistiche, tant'è che spesso sono proprio loro a decidere quanto lungo deve essere un lato del CD e addirittura in quale posizione debba essere registrata la canzone A rispetto alla canzone B, rispetto alla canzone C di un album, alla faccia del produttore e addirittura alla faccia dell'artista. Perché hanno questo potere? Beh, perché sanno che le tracce più esterne sono di qualità migliore rispetto alle tracce più interne. L'ultima traccia è quella che sicuramente suonerà peggio, tant'è che spesso viene nei dischi di alta qualità evitata di essere incisa. Ma perché tutto questo? Proprio per la natura stessa del solco che abbiamo nei nostri famosi dischi in vinile. Facciamo un po' di cronestorie e torniamo ai primi anni in cui è parsero i dischi, che non erano di questo materiale, ma erano di tutt'altro materiale molto più duro. La durata di ogni disco che aveva le dimensioni simili era però di 5-6 minuti e si trattava dei famosi 78 giri, giravano a 78 giri al minuto. Quando si cominciò a vendere tanti dischi, grazie soprattutto ai tenori italiani tra l'altro, le industrie americane capirono che non si poteva più andare avanti così, con questi dischi pesanti, costosi e fragilissimi, con solo 6 minuti di musica. Si riunirono fra di loro e decisero che avrebbero dovuto creare un nuovo standard per avere dei dischi che suonassero a lungo. Long Playing LP, ecco da dove è il vero nome di questi oggetti. Da quel momento i dischi durarono 20-25 minuti, grazie ad un trucco che decisero tutti assieme di adottare. Si trattava dell'equalizzazione RIAA, RIAA, Riunione delle Industrie Acustiche Americane, qualcosa del genere. Eccola qui, l'equalizzazione RIAA, che come vedete è una equalizzazione pesantissima. Che toglie in maniera pesantissima le basse frequenze, lascia inalterate le medie frequenze e enfatizza le alte. Equalizzazione che veniva introdotta nel segnale prima di essere registrato inciso sul nostro disco e che faceva in modo che i solchi a questo punto non erano più così larghi e profondi come lo erano nel 78 giri, mentre adesso privati di bassi risultavano più stretti e potevano stare molto più vicini fra di loro. Ed ecco che da sei minuti di musica si arrivò ad otterne una ventina. Questa equalizzazione RIAA che veniva introdotta nelle registrazioni doveva poi essere riequilibrata al momento dell'ascolto da un altrettanto ed opposto equalizzatore, opposto e simmetrico, che riportasse i bassi e gli alti alla giusta entità. Ed infatti in ognuno dei nostri preamplificatori Fono, cioè quei due buchi dove infiliamo il giradischi, è presente un equalizzatore RIAAA. Quindi quando noi andiamo a ascoltare un disco in vinile, il suono, anche se non lo sappiamo, anche se non lo vediamo, passa attraverso due equalizzatori che non conosciamo, che non abbiamo scelto, del quale non sappiamo nulla, che speriamo siano esattamente complementari l'uno all'altro e che attuano entrambi un'equalizzazione estremamente pesante. A questo punto sì, io chiedo di essere un odiofolo, ma lo sai che nel tuo impianto ci sono ben due equalizzatori, forse rimarrebbe abbastanza basito, come si dice oggi. Beh, andiamo avanti. A questo punto i nostri bravissimi, speriamo tecnici, hanno inciso il primo embrione, cioè la prima lacca di quello che sarà il nostro disco. Ovviamente questa lacca non è quello che vi portate a casa e che potete ascoltare. Ci saranno tantissimi passaggi prima di arrivare al disco che comprate in negozio. Questa prima lacca infatti viene spruzzata, letteralmente spruzzata, con una serie di prodotti chimici, quindi stagno, argento e prima battuta, poi sciacquata, poi rimersa in altri bagni a base di nickel, poi ancora risciacquata, ancora rimersa, fino a fare in modo che la superficie della lacca sia ricoperta di uno strato, questo punto di metallo, che staccato dalla lacca diventerà un negativo di quello che era la lacca principale. Questo passaggio pensate che sia privo da ogni modifica del segnale, anche minima? Va bene, andiamo avanti. Questo negativo potrebbe essere la matrice che stampa i nostri vinili, ma non lo è, perché è un esemplare unico e siccome bisogna stampare almeno qualche migliaio di copie, se non qualche milione di copie come si faceva ai tempi dolori del disco, una matrice solo non può bastare. Quindi a questa matrice viene rifatto nuovamente un'ulteriore serie di procedimenti, tipo quelli precedenti, magari con altri materiali, una serie di bagni, di asciugature, di additivazioni, fino a ottenere nuovamente un positivo, che trattato ancora una volta, l'ennesima volta, con bagni, asciugature, lavature, produrrà una decina, una ventina, una cinquantina, finalmente, di master di stampa. Perché così tanti? Beh, perché ogni master di stampa, che saranno poi quelli che andranno a premere sul vinile caldo per produrre i nostri rischi, ognuna di queste matrici ha una durata limitata, può stampare un migliaio di dischi dopo di che si deteriora. Quindi dobbiamo sperare che il disco che noi abbiamo a casa sia il primo, il secondo, il terzo prodotto con quella matrice, e non il 99esimo, 999esimo disco prodotto con quella matrice prima che venga sostituita da un'altra. Io quando penso a tutti questi passaggi, rimango un pochino interdetto, ma è meglio che non ci pensi, anche perché vi ho tralasciato veramente un sacco di altri passaggi che lasciano veramente libiti nel processo di costruzione di un disco, anche perché questi macchinari sono tutti macchinari degli anni 50-60. Macchinari più moderni ad oggi non esistono, forse, visto che adesso il vinile sta tornando molto di moda, qualcuno si preoccuperà di ricreare, di riprodurre macchinari recenti. Ma per quanto mi risulta si tratta sempre di, non solo di tecnologie, ma anche di macchine risalenti alla metà del secolo scorso. Quindi ci vuole veramente una buona dose di volontà e di tenacia per ottenere dei buoni vinili. Qualcuno so che lo fa, vedi, mister lincetto, che so che esiste, che so che interviene parecchio anche sul web, ma sono casi davvero rari. Arriviamo poi finalmente al processo di stampa, quello che tutti immaginiamo, che tutti abbiamo visto anche in televisione. Non approfondisco, perché capite anche voi che parliamo veramente di un processo non solo di bassa tecnologia, ma veramente soggetto a mille variabili, spesso negativi, che riguardano il tipo di pastel, la temperatura, la pressione, la pulizia, la velocità con il quale questo processo di stampa produce i nostri dischi. Vi accenno solamente che dobbiamo sperare che il nostro buco sia esattamente in mezzo, perché se non fosse esattamente in mezzo, il disco comincerebbe, quando ruota, a oscillare. Chi di noi non ha visto un disco appoggiato sul nostro giradischi oscillare a destra a sinistra, proprio perché è errato il buco, oppure vederlo salire e scendere perché il disco è storto. E quindi, noi che sappiamo come la puntina deve tracciare, noi che abbiamo comprato un giradischi raffinatissimo, con una puntina altrettanto costosa, che abbiamo dato un peso di lettura X e un anti-skating Y, di solito molto a caso, dovremmo preoccuparci di quello che succede al nostro disco quando la puntina si muove in questa maniera. Il problema dell'analogico, quindi, non è solo la polvere che cade sul disco, anzi tra l'altro è molto di più quella che viene raccolta nel momento in cui la appoggiamo, è proprio nella sua natura progettuale che prevede mille compromessi, al confronto di quale, secondo me, il processo di conversione e di riconversione è quasi ininfluente rispetto appunto ai compromessi al quale è soggetto un nostro disco in vinile. A proposito, noi chiamiamo tutti vinili, io lo chiamo disco in vinile, ma vinile è una parte della parola più comprenessa, a poli cloruro di vinile, cioè PVC, cioè plastica. Certo che dire io ascolto solo, io suono solo dischi in vinile è molto cool, dire io ascolto solo dischi in plastica lo è molto meno, forse sarebbero meno modaioli dischi se fossero chiamati di plastica invece che di vinile. Quella che chiamo plastica comunque è una termoplastica, tant'è che il panetto, la saponetta iniziale, prima di essere pressata viene scaldata a 180 gradi per assumere le forme che noi conosciamo, quindi dovremmo anche addirittura stare attenti a che temperatura ascoltiamo questi dischi, perché la natura della termoplastica è molto sensibile alla temperatura. E addirittura dovremmo sapere che lo ascoltiamo così com'è solo la prima volta, dopo averlo acquistato, la seconda volta è già danneggiato, c'è una puntina di diamante che ha tracciato tutti i solchi e il disco non sarà più quello di prima, tant'è che sappiamo tutti che dopo cento volte che lo ascoltiamo il disco sarà direi rovinato e la prima volta sarà rovinato per un centesimo di questa quantità. E quindi cosa facciamo? Le buttiamo via? Assolutamente no. Penso, come so che tanti di voi pensano, che la magia a cui si ascolta un disco di questa forma rispetto a quello di questa forma sia impagabile, alla faccia di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Il momento in cui si sfila il disco dalla sua copertina, il momento in cui si prende la puntina fisicamente e personalmente la si appoggia sul primo solco e si assiste a questo rito quasi metafisico di un sistema puntina giradischi vinile che non va toccato e dal quale miracolosamente scaturisce una musica è veramente impagabile. Inoltre ci obbliga a sederci e ad ascoltare tutto il disco, dall'inizio alla fine, compreso le sfumate, cosa che non faremo mai invece con il vinile, grazie al telecomando che ci fa schippare, che ci fa passare da un brano all'alto perdendo la natura del disco stesso. Quindi lunga vita al disco in vinile. Dio lo benedica come Dio deve benedire la caffettiera napoletana. Però personalmente farò molta attenzione quando mi chiederanno ma suona meglio il disco in vinile o il CD. A presto.